ciao ragazzi è fatto il momento di approdare su skypea mi pare si chiamasse se non ero l'isola nel cielo e se ben ricordo eravamo rimasti qui e infatti ci stiamo come dire stiamo atterrando insomma sull'isola diciamo in questa puntata useremo Sanji perché la scelta era solo fraso che abbiamo usato di recente Rufi e Idem e Sanji e quindi sceglieremo per Sanji sono molto curioso di vedere che personaggi incontreremo oltre a De Nero che era già presente anche nell'altro gioco come parlavamo nello scorso episodio e partiamo subito quindi io Sanji l'ho già preparato, gli ho già messo i punti esperienza dovuti, le skill eccetera adesso vediamo un po' come va rispetto alle altre partite che abbiamo fatto dovremmo aver sbloccato anche 1, 2, 3 le mosse si col triangolo dopo il quadrato perfetto ok allora dobbiamo difendere i territori, difendere i nostri amici eccetera eccetera intanto vediamo come questa si può fare 1, 2, 3, 4 e la combo dopo bam bellissime evoluzioni R di Sanji intanto che ci pensiamo dove... ah dobbiamo andare di là noi allora corriamo subito perché ho scazzato robin intanto io seleziono Asop per far salire... anzi no, seleziono Rufi che è già quasi piena la sua barra nonostante non lo vediamo fate già carica non so bene perché adesso ho proprio un punto interrogativo cavolo chi è? spazio ah c'è un soldato non so perché non posso attivare la riduce, ho la barra che è caricata ma che non si è riempita non so bene perché perché era così carica allora? beh siamo in punto esperienza, no? comunque in teoria abbiamo completato l'obiettivo secondario ma non ci ha dato niente eh boh continuiamo a camminare verso dove dobbiamo andare per continuare la missione per non fallirla più che altro ah ecco un altro punto interrogativo di là eh però prima vorrei cercare di togliermi dalle scatole un po' di nemici e adesso andiamo subito al punto interrogativo prima che scompaia cerchiamo di togliere dalle scatole questi mi sono dimenticato purtroppo ho letto nei commenti utilissimo adesso non mi ricordo il ragazzo che l'ha scritto perdonami però comunque grazie del consiglio non posso ottenere una S perché sto giocando a easy quindi mi devo ricordare di mettere voglio mettere normale sperando non sia molto complicato c'è più che altro che non ci si metta molto tempo perché vorrei siccome sto registrando già i video sono lunghi non vorrei semplicemente allungare il video non è tanto questione di difficoltà nel senso che non è che sono preoccupato da giocare a normal ho sempre giocato questo tipo di giochi quindi credo di essere sufficientemente preparato ciò che mi preoccupa invece è di allungare troppo il brodo intanto Sanji parla da solo lasciamo Sanji parlare da solo e torniamo su invece noi di qua però non ci sono molti nemici con cui avere a che fare e quindi prima che l'energia finisca io vorrei ecco tipo che voi vi riuniste un attimo per poter sparare la mia mossa finale e come dicevo non potrò quindi ottenere la S finché non giocherò a normal c'era in effetti questa regola anche nell'altro One Piece ma io l'avevo rimossa quindi grazie a chi prontamente mi ha scritto questo commento purtroppo non mi ricordo il nome pardon però grazie mille continuando con il video invece con questo episodio in particolare calciamo l'aria ecco perché calciare l'aria è una cosa buona e giusta e anche sistemarsi la cravatta perfetto non mi fa più andare avanti forse perché devo andare a pescare laggiù il nostro compagno se non vengo fin qua a parlarti non sali tra l'altro poi io volevo cambiare e mettere anche Asop forza ragazzi perché così abbiamo visto che salgono di livello i personaggi più li usi quindi direi di continuare ad usare quelli che non abbiamo sbloccato cosa si fa con R1 tra l'altro cos'è? che roba strana tipo una presa R1 cammina questo non ci avevo mai fatto caso intanto compare della gente e noi si da qua possiamo andare sotto e andiamo a vedere andiamo a pestare questa gente vediamo che cosa ci dicono andiamo a fare tutto il giro dell'oca è comparsa anche un'altra marea di gente però c'è il pienone qua eh sono i saldi eh ragazzi pam no l'ho mancato pam è detto cazzo però è mancato clamorosamente comunque c'è un po' di marina no c'è la marina infatti tipo guardie del cielo e abitanti del cielo normali guarda che bella questa posa di Sanji che capirò là lì indietro saltiamo anche se purtroppo c'è Nami sofferenza però andiamo un po' più veloce se no poi direi subito di provare a eliminare questo con un bel concassé se non ricordo male si chiamava così la mossa sono sempre un po' di incertezza ragazzi la memoria dovete capire che quando uno invecchia purtroppo peggiora se guardate Leo c'ha 6 anni in meno di me però la sua memoria è peggio della mia quindi tutto sommato non mi è andata neanche così male insomma c'ha dei c'ha dei metri di paragone vicino a me che mi fanno stare un pochino più sereno però sì è veramente brutta vediamo se facciamo così un po' di pulizia pam beh dai qua un po' di cappò abbiamo messi 106 con una sola mossa non pensavo così tanti però dove vai tizio? aspettami un attimo qua sei uno di quelli che tipo dei capitani insomma diciamo quindi secondo me devi subire anche te la mia mossa speciale pam oh guarda che c'è beh se tu esci così ah e allora è il momento di liberare Laura vai Sanji trasformati in Super Saiyan parabarabarabarabam guarda che botte che ti tira Sanji uno due tre quattro pam no questa però non gliel'ho fatta perchè non l'ho alzato e Neroke è sicuramente uno dei personaggi più fighi della serie per dire a me non piacciono i cattivi io sono sempre dalla parte dei buoni per dire a me è sempre stato sull'anima mi starà sempre sull'anima Sasuke per tutto quello che ha combinato nella sua vita in Naruto per dire però devo ammettere che ci sono personaggi che sono particolarmente fighi sicuramente Nero nonostante non sia un personaggio positivo perchè è cattivo al 100% per quello che ne so io almeno non ho mai visto qualcosa di buono in lui sempre ha avuto un impatto negativo comunque sulla storia però figo un personaggio sicuramente figo intanto in questo gioco hanno voluto potenziare ancora di più il capo dei nostri avversari guardate che risultato imbarazzante con questa mossa finale devo dire bene eseguita perchè mi sono posizionato bene però numero impressionante di nemici abbattuti allora dobbiamo andare a cercare in quei posti lì quelle frecce lì indicano ciò e se indicano ciò noi ciò faremo però non si può passare da qui perchè non si può passare da qui e da dove si può passare prima a conquistare dei territori adesso intanto cerchiamo di fare questo purtroppo escono si fanno lenti i territori rispetto a quello che puoi trovare in giro non escono molti personaggi tutti insieme questi li abbattiamo così 1,2,3 fuori anche questi qui di qua cosa c'è 1,2,3 bella così questo non è stato male però sconfiggendo questi nemici non è successo assolutamente niente di niente allora i territori che sono chiusi sono chiusi con le strisce già ma non è chiuso però perchè da sopra si può passare se si fa un giro infinito si arriva proprio lì allora qua c'è un sacco di gente approfittiamone boh ho addirittura fatto un trofeo 10.000 nemici siamo già arrivati ragazzi potete guardare sotto o in alto insomma il titolo dell'episodio questo episodio qui già siamo 10.000 nemici per farvi capire quanti se ne ammazzano in questo particolare capitolo della serie rispetto a quello che possono essere stati quelli precedenti qua si fanno molti più KO ci sono vabbè la mossa con R2 è veramente devastante Luffy non stare a perdere tempo con l'inizio per favore se è possibile ma avanziamo verso il territorio e nel territorio facciamo prevalere la nostra potenza utilizziamo ancora una volta questa mossa tra l'altro adesso ha potenziato i danni diciamo perché oh bellissima così perché ci sono c'è il doppio aiuto sia Asoff che Ruffy direi che questa è una cosa buona la bella combinazione col triangolo mi piace mi piace però è il caso anche di uscire un po' per espandere i nostri orizzonti dai forza forza così solo che finirò che il territorio lo conquistiamo e non sappiamo a chi sparare 2000KO andiamo per di qua mi sono perso ah perché la porta era chiusa vabbè ho la porta aperta non ho capito da dove si passa ah ma qui non c'è una porta ah bisogna passare da qua ok a posto adesso ci sono allora facciamo giro abbiamo sprecato la mossa finale ma non c'era più un cane e qua ci siamo adesso che qua ci siamo ci apri una porta qualcosa o non ci apri un cacchio di niente va bene qua qualcosa è successo forse devo tornare su e fare il giro adesso vediamo se effettivamente è così vediamo se effettivamente è così qui la porta è chiusa voglio fare il giro giro tondo forse l'hanno già aperta loro però forse mi ha già contato come se fosse arrivato io però non lo so con certezza facciamo un altro po' di tornado se lo sparano avanti non è che sia molto efficace però ah c'è della gente qua dove ho quanta gente no ma li hai spostati tutti io sono stato un po' lento a reagire con riflesso ma da me li hai spostati tutti mi ha preso il tempo si dai ho anticipato io vai così asop vai così bene oh bellissimo e mo chi è volato ah guarda che c'è apre la porta e mi si apre anche questa o no no poi si chiacchiera basta non si aprono le porte peccato e se quant'è io devo rifare tutto il giro intorno di nuovo madonna che parto ragazzi e devo andare a sconfiggere tra l'altro il tipo non so bene perché perché credevo fosse buono però devo andare a sconfiggerlo babini arrivo devo dire che questa missione è abbastanza antipatica questo sale scendi è nauseante è veramente nauseante meno male che ci muove anche un po' veloce perché se camminavamo un po' più lente ancora era pure peggio allora